Come è stato l'impatto con la città di Macerata per lei e arriva dalla Questura di Sernia una nuova sfida su questa realtà? Molto positivo, una città bellissima e sono stato accolto molto bene sia dai colleghi che sono qui vicino a me, quindi dai colleghi della Questura e ho già conosciuto qualche marchigiano, quindi veramente un impatto positivo. Ha parlato di controllo del territorio come priorità, anche come prevenzione e cultura della legalità soprattutto tra i giovani, questo da cui partire al di là degli aspetti prettamente operativi. Io credo molto in questi due pilastri, controllo del territorio e educazione alla legalità, quindi sicuramente continuerò l'opera che ha cominciato il collega Pallini e cercheremo di fare sempre del meglio. Fido molto nella squadra, ho un'ottima squadra, l'ho verificato in questi giorni, quindi senz'altro cercherò di dare un contributo alla sicurezza della provincia di Macerata. Che cosa crei in sicurezza nei cittadini oggi e qual è la risposta che si può dare? Aumentare la presenza sul territorio e, insisto, il controllo del territorio. Il cittadino ci deve vedere perché già la semplice vista dell'uniforme della macchina, dell'auto con i colori, dà sicurezza, trasmette sicurezza al cittadino per bene.